La scelta della giunta di piazza di voler dedicare una via a Giorgio Almirante rappresenta uno sgarbo nei confronti del Consiglio Comunale che non ha potuto discutere, ma soprattutto rappresenta un'offesa nei confronti della città di Trieste. Non sono osservite le tantissime persone del PD, dei sindacati e delle associazioni convenute ieri sera in piazza Unità, mentre nell'aula al primo piano del Palazzo Municipale si svolgeva la seduta del Consiglio Comunale e che chiedevano di bocciare la mozione che proponeva l'intitolazione di una via di Trieste a Giorgio Almirante, come non è servita la richiesta di incontrare il capigruppo respinta a Tucur. La mozione, attraverso l'assessore all'istruzione Angela Brandi, sebbene fa notare la capogruppo PD Fabiana Martini, in aula fosse presente l'assessore Lobianco, titolare della delega alla toponomastica, è stata fatta propria dalla giunta. Si tratta di un fatto molto grave, sottolinea il segretario provinciale DEM Giancarlo Ressani. Il sindaco innanzitutto smentisce se stesso, perché più volte ha detto di voler essere ricordato come il sindaco dei tre presidenti, facendo propria questa mozione, sarà ricordato come il sindaco delle divisioni, che fa proprio una mozione che ricorda un esponente fascista. La decisione del sindaco, una vera e propria furbata, prosegue Ressani, ha privato il Consiglio Comunale della possibilità di discutere e votare su un tema così delicato, ma questa scelta trova giustificazione nella paura del primo cittadino che la maggioranza si spaccasse. E infatti, sottolinea il segretario DEM, oggi i consiglieri e assessori della lista di piazza si sono dissociati dalla decisione della giunta. Non si fanno furbate sulle appelle dei cittadini, non si fanno furbate su temi così delicati che investono le sensibilità dei cittadini in maniera decisiva. Non si fanno furbate.